Quattro uomini di origine marocchina sono finiti in manette con l'accusa di tentato omicidio. La misura di custodia cautelare è stata disposta dal G. Dolores Limongi, su richiesta del PM Daniela Cento. La sera del 18 febbraio scorso, insieme ad un complice al momento ricercato, i quattro avrebbero aggredito un 42enne italiano, colpendolo con mazze da cantiere del peso di 4 kg ciascuna, in un parco pubblico a Campi Visenzio, provocandogli gravi lesioni alla testa e agli organi interni. L'aggressione sarebbe avvenuta dopo che il 42enne si era lamentato con uno degli arrestati, accusandolo di avergli venduto una dose di cocaina di bassa qualità. Le indagini immediatamente sviluppate a seguito dell'aggressione patita dall'uomo il 18 febbraio scorso hanno accertato che l'azione deliltuosa è stata perpetrata per punire la parte offesa di uno sgarbo che avrebbe perpetrato ai danni di uno degli indagati. In buona sostanza uno di questi cittadini extracomunitari aveva ceduto all'uomo una dose di sostanza stupefacente di cattiva qualità, innescando le proteste di quest'ultimo. Tra i due ne sono nati degli attriti che poi sono sfociati in questa gravissima aggressione che è stata perpetrata anche con delle mazzuole da cantiere dal peso di 4 kg l'una. E per una pura casualità il soggetto vittima dell'aggressione non è deceduto ma ha riportato delle lesioni molto importanti. Attualmente uno dei soggetti destinatari della misura cautelare, il quinto, ovvero colui il quale di fatto aveva effettuato la cessione stupefacente, è ancora ricercato.